Restano qui sotto tende schierate e una sorta di confine piazzato a metà strada quasi a voler liberare un po' di spazio. C'è la pianta della piazza Macao, come l'hanno ribattezzata, con tanto di targa ritoccata. Eventi, tavoli, spazi di riflessione, si lavora a quel progetto, si cerca di dargli un volto dopo aver trovato il nome. Stasera non saranno all'ex San Saldo, l'invito di Boeri è gradito ma non c'è ancora un piano preciso, lo sgombero ha accelerato fatalmente una presa di coscienza ancora in fieri. L'assemblea non ha ancora maturato una decisione rispetto alla proposta dell'ex San Saldo, visto che questo comunque è un primo incontro che coinvolge tutte le associazioni culturali che vogliono andare all'ex San Saldo, ce ne saranno molti altri e quindi forse parteciperemo al prossimo. Stamane sono loro, l'anima di Macao. Ieri sera fino a tarda sera in 3000 ad ascoltare i concerti del Conservatorio Verdi Prima e della civica di jazz a seguire. Vive Macao, si racconta dipingendo un futuro, una risposta, un disagio vero. Non resteranno qui a lungo, lo sanno anche loro. Abbiamo comunque maturato la decisione di stare qua e di mantenere un occhio vivo su questa cosa qua che se noi ce ne andiamo sparisce. Però insomma sappiamo anche che comunque è una situazione temporanea, che c'è questa esigenza adesso, le cose cambiano molto velocemente. Sarà contento il benzinaio di via Galvani che dal giorno dello sgombero perde il 60% degli incassi. Ma anche lui non li condanna, è quasi curioso di capire come finirà, come crescerà Macao, se si arriverà davvero a una sintesi costruttiva delle tante, forse troppe istanze che per ora trovano democratica cittadinanza sotto la torre. Parlano di terza via, lo ripetono spesso, abbiamo chiesto loro di spiegarci. Questo processo che noi stiamo portando avanti è un processo che afferma la cultura come bene comune ed esce dalla dicotomia che è quella normalmente utilizzata per la gestione degli spazi, cioè la privatizzazione o la delega del pubblico. Cultura di tutti più che per tutti, è un'idea che resiste, che non si chiude, che chiede tempo per trovare una forma.